Emilio Vedova, Venezia 1919-2006, Vie del Mondo, 1953, Tempera su tela, Collezione Premio del Golfo. Vedova rappresenta uno dei protagonisti del rinnovamento dell'arte italiana del secondo dopoguerra. Questo dipinto è particolarmente importante perché è uno dei primi saggi della sua ricerca astratto informale, molto particolare e distintiva per l'irruenza e la dominanza della componente gestuale, a fine per certi versi all'action painting statunitense, e per l'impiego di una gamma cromatica ristretta. Qui, come altrove, dominano i bianchi e neri, cui fa da contrapunto la dosata emissione di squillanti colori primari.